Ho distribuito il francobollone laicità, poi lo usiamo per lasciare un segno grafico di questa manifestazione. Se non lo avete fatevelo dare e poi lo useremo per fare la foto di gruppo con laicità possibile a Milano. Adesso continuiamo a parlare di altri pezzi di diritti, parliamo di quello che resta della legge 40, cioè parliamo del diritto del paese di avere una legge degna sulla fecondazione assistita. Ne parliamo insieme a Irene Pelizzone che è un avvocato, la magistratura ha disfatto l'infamia della legge 40 e a Rossella Bartolucci che si occupa dello sportello tutta la maternità possibile alla casa dei diritti. Vi lascio il microfono. Buongiorno a tutti, io oltre a essere avvocato sono anche ricercatrice universitaria in diritto costituzionale e è dal 2004 quando è stata approvata la famigerata legge 40 che mi occupo dei problemi della legislazione italiana in tema di fecondazione assistita, legislazione italiana che nel momento in cui è stata approvata nel 2004 era quanto mai lontana dai problemi reali delle coppie infertili che in Italia costituiscono il 15% della totale delle coppie che decidono di cercare di avere un figlio. Questa legge è nata attorno a molti pregiudizi, il suo iter legislativo è stato caratterizzato dall'assenza del confronto con la scienza medica e ne è venuta fuori una legge piena di divieti assoluti e rigidi che hanno comportato una diminuzione delle chance di successo nelle tecniche di fecondazione assistita che alcuni studi medici hanno dimostrato. In realtà adesso la caratteristica di questa tematica è che ci troviamo una legge rispetto alla quale la Corte Costituzionale ha fatto tre interventi demolitori che ne hanno cambiato completamente l'assetto hanno rimosso tre divieti fondamentali, perché? Perché questa legge si poneva in alcune sue norme contro il diritto costituzionale alla salute delle donne e delle coppie infertili contro il principio di uguaglianza discriminando ingiustificatamente le coppie infertili e contro il principio costituzionale della ragionevolezza e della proporzionalità delle leggi e quindi la Corte Costituzionale attraverso un lavoro che ho potuto vedere molto da vicino in quanto ho assistito in particolare gli avvocati che si sono occupati in prima linea di queste questioni quindi da dietro le mie scrivanie e i miei computer ho fatto delle ricerche, ho visto come la Corte Costituzionale si è riuscita con questi interventi mirati a fare tantissimo. Adesso ci troviamo davanti ad una legge che vede caducati tre suoi divieti molto, mi sento di poter dire, credere crudeli per le coppie infertili, il primo che è stato eliminato nel 2009 con una sentenza storica per cui si potevano produrre per ogni ciclo di fecondazione assistita un numero massimo di tre embrioni insufficienti per dare a moltissime coppie delle chance di successo e in secondo luogo il divieto di crioconservare gli embrioni, tutti gli embrioni prodotti dovevano essere impiantati nel corpo della donna con la ripercussione molto problematica delle gravidanze plurigemellari che sono rischiose sia per il feto e per i feti sia per la salute della donna quindi vediamo una legge che di facciata tutelava il diritto alla vita dell'embrione ma era una tutela finta, una tutela di bandiera tant'è vero che poi come vi dicevo prima il numero effettivo dei nati dalle fecondazioni assistite in Italia era diminuito dopo il 2004, seconda pronuncia degli studi medici dimostrano che già nel 2010 in Italia si avevano avuto il 15% di nascita in più del momento precedente a questo intervento demolitorio della Corte Costituzionale quindi risultati concreti. Nel 2014 un'altra sentenza storica della Corte Costituzionale che fa venire meno il divieto di fecondazione eterologa cioè il divieto per le coppie in cui uno dei partner è affetto da una sterilità assoluta di ricorrere alla donazione di un gamete di un terzo esterno alla coppia in Italia era vietata in Italia era vietata e si assisteva al fenomeno che è stato definito dell'esilio procreativo perché le coppie dopo il 2004 si rivolgevano a cliniche estere affrontando dei viaggi sia difficoltosi da un punto di vista economico ovviamente sia dolorosi perché ci si trova di fronte ad un problema e addirittura affrontarlo lontani, affrontarlo all'estero, un paese straniero ovviamente rende tutto più difficile per farvi capire come il legislatore fosse lontano, è stato lontano dai problemi reali delle persone in questa problematica della fecondazione medicalmente assistita non ha visto le coppie infertili come delle coppie che cercano, hanno purtroppo un problema cercano di risolverlo grazie a che cosa? Grazie a dei nuovi strumenti che la scienza medica mette a disposizione ma ha considerato questa tematica con un pregiudizio come se ci fosse un accanimento delle coppie nel realizzare il desiderio della maternità, della riproduzione. Ultimo intervento della Corte Costituzionale fondamentale si è avuto quest'anno nel 2015 la Corte Costituzionale è intervenuta su un altro divieto molto crudele, forse il più crudele della legge 40 che non consentiva l'accesso alla fecondazione assistita alle coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili che attraverso la produzione di embrioni in laboratorio possono con la famosa tecnica della diagnosi genetica preimpianto selezionare gli embrioni che non hanno ereditato la malattia genetica che i genitori hanno e quindi possono consentire alle coppie se si riesce a produrre questi embrioni di arrivare ad una gravidanza senza aver trasmesso la malattia genetica mentre diversamente in Italia cosa si può fare? Si può effettuare lo screening prenatale e l'interruzione volontaria di gravidanza alla porto questo tipo di divieto c'era costato anche una condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo finché la Corte Costituzionale quest'anno ha accolto la questione quindi vediamo il legislatore italiano come dire condannato tre volte dalla Corte Costituzionale italiana una volta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo quindi adesso ci troviamo davanti una legge smussata in molti suoi divieti tuttavia per garantire davvero il diritto non basta l'intervento dei giudici perché i giudici costituzionali non possono sostituire con una nuova regolamentazione la vecchia legge 40 possono fare solo degli interventi mirati chirurgici per avere adesso un effettivo diritto bisognerebbe ad esempio ragionare anche sui costi della fecondazione assistita sull'inserimento delle tecniche di fecondazione assistita nei livelli essenziali di assistenza che consentono l'intervento del servizio sanitario nazionale ragionare sul modo in cui gli ovociti possono arrivare in Italia sul modo in cui si possono donare gli ovociti perché adesso la fecondazione terologa in Italia non è più vietata ma si fa davvero poco questo è un motivo per cui continuare a guardare con grande attenzione a questa tematica quello che il Parlamento potrà fare nella speranza che gli organi politici e non solo la magistratura possano aiutare questo tipo di coppie che sono di fronte a un problema molto grave che non è giusto che nel nostro paese in Italia rimangano sole ciao a tutti dopo il punto di vista legale io porto proprio il punto di vista dei pazienti infatti io sono un ex paziente infertile che ho dovuto fare fecondazione assistita in seguito a questo ho fondato un'associazione SOS Infertilità Onlus che si è occupata negli anni già da prima dell'approvazione della legge 40 prima di tentare di non farla approvare però senza successo e poi oltre che di sostenere le coppie anche appunto di contribuire insieme agli avvocati a picconare questa legge allora si parla di diritto diritti negati nella legge 40 qual è il diritto negato della legge 40? i pregiudizi cosa dicono? i cattivi e ignoranti pregiudizi dicono che noi cioè che le coppie infertili gli uomini e le donne che hanno problemi di infertilità vogliano il diritto ad avere un figlio a tutti i costi cioè lo vogliono e basta no non è così ma io lo dico per averlo provato sulla mia pelle e sulla pelle di tutti gli amici soci della nostra associazione tutte le persone che afferiscono al nostro sportello il diritto negato il diritto per il quale noi abbiamo lottato e continuiamo a lottare è quello di tentare di curarsi nel miglior modo possibile nel nostro paese senza essere discriminati curarsi sì perché l'infertilità in tutte le sue sfaccettature mediche è una patologia e ciò è assolutamente ratificato questo concetto anche dall'organizzazione mondiale della sanità l'infertilità significa tantissime patologie maschili o femminili anche gravi anche tumori pregressi che ti negano davvero la possibilità di diventare genitore senza l'aiuto della scienza e oggi, a tutt'oggi, la fecondazione, la procreazione medicalmente assistita è la cura principe per la maggioranza dei casi di infertilità procreazione medicalmente assistita che come sapete ha tantissimi cioè l'omologa, l'eterologa, poi molti non lo sanno so che sono termini difficili per tanti infatti è un tema di difficilissima comunicazione a chi non lo vive e da lì anche tanti pregiudizi quindi diritto a curarsi senza discriminazioni perché quello che infatti diceva Irene che parlava di turismo, di procreativo che purtroppo c'è stato nei più di dieci anni di legge 40 non picconata significava che le coppie che avevano gli strumenti economici, sociali e culturali per poter andare all'estero lo facevano e poi, tra l'altro, assurdamente la legge 40 prevedeva anche questa ipocrisia perché permetteva, ad esempio, diceva in qualche modo normava il comportamento delle coppie che comunque avrebbero fatto eterologa pur contravvenendo la legge, eccetera quindi una legge, tutto sommato, anche molto italiana in questa sua ipocrisia e chi invece non aveva gli strumenti semplicemente o si curava in modo monco e sbagliato in Italia fino appunto alla sentenza dei tre ovociti di cui parlava Irene o semplicemente non si curava quando aveva bisogno di cure pesanti come quella della donazione di seme o di ovociti da appunto donatore che è la cosiddetta eterologa e qui vi dico due parole chi è che ricorre all'eterologa? Ricorre all'eterologa chi, ad esempio, non so, uomo per un pregresso tumore al testicolo o da un tumore ovarico proprio non ha i propri gameti quindi disperatamente come ultima soluzione ricorre a questo e qui parlo anche di un altro pregiudizio e un altro diritto allora si sente dire spesso che chi fa fecondazione assistita soprattutto eterologa soprattutto diagnosi preimpianto voglia il diritto all'eogenetica cioè il diritto al figlio bello, intelligente al figlio scelto su misura ecco, questa è una cosa che fa assolutamente arrabbiare imbestialire noi tutti che abbiamo vissuto e viviamo questo grosso problema perché nessuna uomo o donna infertile che vive questo dramma sociale, personale dell'infertilità vuole il figlio perfetto semplicemente vuole che il suo diritto a tentare di avere un figlio con l'aiuto della medicina sia rispettato appunto, vuole un figlio come tutti e non è che ci si accanisce cioè all'inizio non ti accanisce all'inizio sei come tutti adesso decidiamo, proviamo ad avere un figlio il figlio non arriva fai delle indagini scopri che devi curarti e purtroppo però se negli ultimi dieci anni eri un cittadino italiano il tuo problema era molto grande diciamo allora noi in seguito a questo una delle azioni che abbiamo fatto come associazione è quella insieme all'assessorato al welfare e alla casa dei diritti appunto di aprire uno sportello lo sportello tutta la genitorialità possibile che funziona da più di un anno in casa dei diritti che ha accolto e accoglie centinaia di coppie vere coppie che sono voi noi i vostri amici fratelli che vengono ogni martedì a chiedere consigli e informazioni su come far valere questo loro diritto negato ecco e con questo vi saluto grazie a tutti